Giornate nere, quelle di ieri e di oggi sulle strade imperiesi con due scontri frontali mortali sulla Statale 28 e sulla Auriglia Bis. Il primo schianto mortale ieri mattina sulla Statale 28 dove ha perso la vita una donna di 90 anni di Imperia e sono rimasti feriti in modo grave, una donna di 33 anni di Sanremo e un uomo di Imperia, deceduto anche il cane che viaggiava con la coppia ferita. L'altra tragedia si è invece verificata questa mattina a Sanremo lungo la Auriglia Bis tra San Martino e San Lazzaro. In questo caso in uno scontro sempre frontale fra due auto ha perso la vita un uomo di 60 anni, un segno inequivocabile e ulteriore della grande pericolosità di queste due importanti vie di comunicazione della provincia di Imperia.